E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, buona giornata. Noi continuiamo a parlare dei nostri casi di cronaca e abbiamo preso a cuore quello di Antonella di Massa. Se ne sono dite tante in questi ultimi giorni, però risposte ufficiali non ne sono arrivate. E allora noi possiamo parlare di tanti dettagli, ma arriveremo anche a fare un video, magari senza dire nulla, magari con una bella scritta sotto, così, giustizia, verità, verità soprattutto, per Antonella di Massa. Questa mia contesania, che non può non avere giustizia, non avere soprattutto verità, qualsiasi essa sia, che si tratti di un suicidio, che si tratti come, penso, più probabilmente, un omicidio con messi in scena, e allora arriveremo anche a questo. Arriveremo, senza altro, a fare un video con una scritta sotto, giustizia e verità per Antonella di Massa, anche senza dire nulla. Però, per il momento, qualche novità, qualche commento c'è ancora da fare. Le novità sostanzialmente su cui si discute sono due. La donna che compra il liquido, si è visto che, al di là di ogni polemica, è lei, è lei, è Antonella, perché si vede che è lei, e perché, insomma, l'hanno riconosciuta tutti coloro che la conoscono bene, certamente meglio di noi. Quindi, possiamo dire, possiamo sfatare, come dire, quel dubbio, che a qualcuno era venuto, che potesse non essere lei la donna che usciva di casa. In verità, insomma, io ho sempre detto che era lei la donna che usciva di casa, perché, benché con un'andatura un po' più frettolosa, aveva questo leggero sbantamento, diciamo, questa leggera zoppia, che si notava. Comunque, però si vede che andava di fretta, come se avesse dimenticato di fare qualcosa, dovesse portare qualcosa a qualcuno, forse era proprio quel liquido antigelo che doveva portare a qualcuno. E quindi si parla di questo. E si parla anche di quella donna sdraiata sul marciapiedi che videro quel gruppo di ragazzi una settimana dopo la scomparsa. Che poi tornarono indietro, come sapete, la videro di nuovo proprio dove fu vista Antonella, diciamo, incappucciata da quelle telecamere stradali. E proprio lì la videro che andava nel vicoletto. Allora ci si è chiesti ma chi era? Poteva essere Antonella. Io dico poco probabile. Allora perché non si sa chi fosse? Non stiamo a New York? Non si sa chi fosse questa qui. Però se vi ricordate bene non è una novità che ci fosse questa donna anche incappucciata che somigliava veramente alla più bassa. Che già noi la vediamo. quel giorno 17 e la vediamo la inquadrano con le stesse telecamere nello stesso posto però più di un'ora prima che arrivi più di un'ora prima che arrivi Antonella diciamo o la macchina di Antonella quindi mi sembra verso le 10 10 e mezza del mattino c'è questa donna vagamente somigliante un po' più bassa che viene inquadrata dalle telecamere quindi è come se vi fosse una donna simile che si aggira da quelle parti quindi come è possibile siamo in una frazione no? una frazione con poche centinaia di abitanti come è possibile non sapere come chi abita lì possa non sapere qualcosa non individuare la persona quindi più che Antonella io penso che questa donna di quella notte che viene inquadrata in quella zona possa essere la stessa che il giorno 17 veniva inquadrata normalmente sotto quelle telecamere che andava avanti e indietro quindi vi lancio questa suggestione che penso che sia interessante poi un'altra cosa di cui si parla è poi questa famosa foto che non è stata mostrata a nessuno nemmeno al marito nemmeno ai familiari allora come è possibile se c'è addirittura una foto di questa donna che stava lì sul marciapiedi possibile che c'è l'esclusiva capisco che magari ce l'hanno gli inquirenti va bene ma credo che la debba vedere soprattutto il marito i familiari comunque e quindi c'è anche il mistero insomma di questa foto poi in verità c'è un altro mistero e lo dobbiamo ribadire ogni volta che parliamo di Antonella che a oltre un mese dall'autopsia non si sa ancora nulla e badate qui non è che si voglia fare polemica sul fatto che alcuni tipi di analisi sono particolari per cui certamente ci vuole tempo e però qualcosa a livello di come è morta se c'è asfissia se c'è liquido nello stomaco qualcosa si doveva sapere dopo oltre un mese qualche indiscrezione dovrebbe essere conosciuta invece niente niente come pure per sapere se è un chiaro depistaggio quello della bottiglia nella mano nella bottiglia di liquido nella mano questa famosa bottiglia che viaggia con Antonella e che sta lì nella sua mano pensate che questo liquido quando viene bevuto certamente non è idoneo a provare la morte almeno nell'immediato ma da certamente dolori di stomaco certamente una sostanza tossica eppure la si trova lì Antonella con la bottiglia nella mano e poi con questo sacco nero sulla testa questo cordino al collo voi ci pensate eppure eppure perché non c'è tutto questo interesse su questo caso forse perché non c'è tanto gossip forse perché non c'è qualcuno che si è svegliato la mattina a dire sono l'amante ad esempio no ho una relazione da 40 anni allora ecco che quando non c'è questo gossip gossip di basso profilo allora si va nel dimenticatoio e se non fosse per alcune trasmissioni e qualcuno che ne parla insomma veramente non si direbbe niente più poi un'altra cosa che mi meraviglia è che anche le amiche più strette dicono certe cose che a me non mi convincono dicono fanno l'ipotesi dice forse si è rifugiata da qualcuno bene a me hanno insegnato che le parole hanno un peso hanno un valore quindi se si ipotizza che una cara amica si è rifugiata da qualcuno significa che ha motivi per rifugiarsi da qualcuno o perlomeno si sospetta che lei abbia dei motivi perché se voi conoscete una donna un'amica che non ha alcun tipo di problema e sta bella e felice non si può nemmeno in ipotesi pensare che lei si sia rifugiata quindi per usare il termine rifugiata da qualcuno significa che sapete qualcosa e non lo dite altrimenti deve essere soltanto stata presa contro la sua volontà se la vita di questa donna era una vita normale e felice allora l'ipotesi che si fa è successa una disgrazia oppure l'hanno presa non è che lei si va a rifugiare capite cioè le parole hanno un senso e quindi bisognerebbe fare attenzione e anche ciò che dice il marito vedete sono parole diciamo che a me non piacciono il marito dice che se Antonella fosse uscita per suicidarsi non usava quel metodo ecco il problema dove nasce nasce dal fatto che anche in ipotesi si fa proprio l'ipotesi del suicidio cioè un marito che dice se lei è uscita per suicidarsi non andava a comprarsi il liquido quello lì che ci vuole tempo che provoca dolori ma magari si portava un veleno più efficace ok però io mi sarei aspettato che un marito che vive felice e contento e appassionato con la propria moglie dicesse io l'ipotesi del suicidio non la faccio proprio non dico mia moglie si poteva suicidare con un metodo più efficace io non l'avrei mai fatto un'ipotesi del genere quindi le parole hanno un senso e qua sono usate molto molto negativamente poi come qualcuno di voi mi ha fatto notare emerge come dire una considerazione di questa donna poco lucinghiera perché non ho mai sentito nessuno dei familiari dire come era intelligente come era come non so nelle sue cose come brillava come come ci piaceva come agiva come gestiva ecco le case vacanze che aveva come era brava no non ho mai sentito complimenti specie dalla famiglia diceva ho sentito solo dire lei che ne sapeva di quest'olio lei non sapeva niente della macchina lei metteva solo in moto sapeva mettere solo la benzina e guidare lei era solo una semplice casalinga era una di casa che non insomma non aveva grosse capacità ecco allora qualcosa non va e mi fa pensare che possa esserci un segreto nella vita di Antonella poi consentitemi anche una riflessione che per scarità niente di che però è strano che anche le figlie di Antonella non non si vedano in tv sono ragazze maggiorenni grandi no e non non si vedano non si vedano non si lasciano interviste non sentono il bisogno di di far sentire la loro voce anche per richiedere verità e giustizia no io non le ho mai mai viste mai sentite c'è una stranezza una stranezza sulla sulla cremazione fatta immediatamente quando non si conoscono ad oggi i risultati dell'autopsia sarebbe stato più opportuno non cremare il corpo perché se magari fosse nata l'idea di fare un altro tipo di accertamento si sarebbe potuto fare quindi è strano è strano anche che i giornalisti che stanno lì non fanno delle domande scomode tipo se se c'erano litigi se c'erano incomprensioni se c'era qualche precedente di qualche problema in casa nessuno fa domande scomode né ai familiari né agli amici più intimi comunque il fatto fondamentale di questa storia al mio modo di vedere è quel buco quel buco temporale che c'è fra l'uscita di casa che sappiamo che Antonella esce lei di casa verso le 11 poco dopo le 11 e 15 compra questa bottiglia di antigelo poi vediamo addirittura alle 12.06 questa figura che esce da quel parcheggio a succivo ora volendo mettere 10 minuti un quarto d'ora per arrivare a succivo da dove si trova il divenditore diciamo che è oltre mezz'ora di buco e non si ha notizie di altre tappe altre fermate che avesse potuto fare quindi qualcosa secondo me è successo qualcosa è successo proprio in quella mezz'ora ricordiamoci che i cani molecolari hanno fiutato addirittura le sue tracce a panza che è un'altra frazione che si trova a circa a tre chilometri da succivo però vorrei che qualcuno analizzasse meglio pure quei video a me non sembra assolutamente Antonella quella che esce dal dal parcheggio e nemmeno quella che poi viene fatta vedere successivamente da quelle telecamere fisse e un'altra cosa strana è che il familiare anche il marito non batte su questo punto qua dice chissà cosa è successo vogliamo sapere la verità ma non ho sentito parlare specificamente di questo disconoscimento di questo forte dubbio a meno sulla sulla riconoscibilità di Antonella allora non vorrei proprio che in questo caso si avviasse a essere un nuovo flop della giustizia perché non possiamo credere che se non c'è un DNA chiaro allora sia sempre suicidio e magari si possa dire non ci imposti non ci importa dove sia stata però visto che non ci sono segni di grande violenza vuol dire che è suicidio ecco non vogliamo sentire queste conclusioni e allora bisogna che qualcuno parli perché qualcosa c'è è strano pure che non parli la mamma vedete noi sappiamo che la mamma è l'ultima persona diciamo con la quale è uscita insomma Antonella a fare la spesa quella mattina la mamma non si vede non ha fatto dichiarazioni così come le figlie c'è da chiarire l'ipotesi di panza certamente è strano pensate che una donna esca alle 10 e 54 di quella mattina e secondo me aveva quella quella fretta di fare una commissione forse doveva appunto fare questa commissione le avevano chiesto questa costesia del liquido refrigerante aveva forse l'idea di perdere un'oretta prima di mezzogiorno di stare di nuovo a casa per cucinare non è più tornata c'è l'amica Anna che dice ma nel video sembra che lei non porti la fede al dito non lo so non ci ho fatto caso me l'ha segnalata l'amica Anna è una cosa da verificare ora le ipotesi che esistono sul tavolo sono sono due o c'è una sostituzione di persona avvenuta quella mattina oppure se non c'è una sostituzione di persona c'è il fatto di una consegna di quel liquido di quella bottiglia e lì succede qualcosa una trappola qualcosa succede certamente non possiamo pensare che lei compri il liquido per andarsi a nascondere vedete non possiamo pensare che lo compri e poi si vada a nascondere 11 giorni c'è qualcosa che non va però sia nella sostituzione di persona sia nella consegna del liquido della bottiglia per poi eventualmente tornare a casa in entrambi i casi assenso il fatto del cappuccio del cappuccio tirato sulla testa perché nel primo caso nel caso della sostituzione di persona allora allora la persona che ha sostituito Antonella ha tutto l'interesse a coprire il volto per non farsi vedere ma si potrebbe anche pensare che nel caso lei sia andando da qualcuno a portare qualcosa magari per una forma di riservatezza per non far vedere che una donna va a casa magari di un uomo a portare questa roba qui magari cerca di non farsi vedere magari a casa di un amico e questo queste le risposte che si devono aspettare c'è l'amica Carmen che mi chiede come mai il marito fosse in Calabria quel giorno questi sono gli inquirenti che ovviamente devono accettare queste cose qua poi Antonella Antonella fa un'osservazione che ho trovato molto giusta e cioè quello che ci siamo detti anche prima perché i familiari mi scrive non mettono in dubbio l'identità di Antonella che arriva a Sucquivo ecco non ho sentito nessuno che dica siamo sicuri che quella persona che esce dal parcheggio non sia lei e allora ci vorrebbe un tecnico un tecnico delle immagini che capirebbe subito se può essere lei se è lei con dei parametri sicuramente potremmo avere delle risposte perché è strano che il marito e le amiche più intime dicono può darsi che le abbiano fatto del male può darsi che lei si sia rifugiata da qualcuno e ma voglio dire queste ipotesi qui si fanno e sono giuste ma perché non mettere anche l'ipotesi che quella non sia Antonella ora purtroppo sono tanti i misteri di questo caso e quel buco temporale di oltre 30 minuti è da riempire con dei contenuti poi un altro contatto che si qualifica LB mi dice non trova strano che non ci sia nessun periodo di parte nominato dalla famiglia per l'autopsia questo è strano anche questo perché da sempre io so che in caso di morte sospetta si nomina si nomine un periodo di parte l'avvocato è stato nominato perché il perito no Mike mi dice il sacco nero sulla testa che senso ha e quegli abiti puliti ecco ricordiamoci che il marito dominico nel riconoscimento della salma dice stava lì con gli abiti puliti era pulitissima non aveva non c'era la sensazione che che lei stesse lì da tempo né che avesse qualche segno qualche qualcosa sugli abiti come se fosse stata depositata ora anche Jessica si chiede come mai dopo oltre un mese non si sa niente dell'autopsia e un'altra amica dice perché si copre il volto solo a suppivo ecco ma veramente abbiamo visto come lei non si copre mai il volto non alzi mai quel cappuccio anche quando va a comprare il liquido entra senza cappuccio esce senza cappuccio possibile mai che senta l'esigenza di mettere questo cappuccio tutto coperto solo a si vada a suppivo e a suppivo da lì non ci vuole oltre mezz'ora e allora l'ultima successione me la lancia Marta che dice ma potrebbe entrarci la gestione dei B&B familiari perché sembra che lei gestisse insomma dei B&B di famiglia non lo so quanti può essere qualcosa del genere può essere in quest'ambito di interessi perché vedete a me l'esperienza mi ha insegnato che quando succedono queste cose o ci sono problemi di famiglia o sono problemi legati a una forma di personalità malata o ci sono questione di interessi e allora bisogna avere risposte noi in attesa di risposte faremo sempre questi video poi quando non avremo più nulla da dire e le risposte non arriveranno allora ecco che metteremo un bel castello faremo cinque minuti di video con un castello in cui ci sarà scritto verità e giustizia per Antonella di massa fino a che ovviamente si dovrà avere una risposta che credo sia doverosa per tutti grazie amici miei grazie dell'attenzione vi voglio bene un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti